a fare quello che deve fare il Napoli perché sbaglia anche Giorgio Kensigne, sbaglia anche Onas, faccio l'esempio Maggio, Rogue e intanto ancora Manu, sbaglia anche un minuto, entreremo Nel Viglia e Sportac Mosca, manca un minuto ed entreramo anche tra Napoli e Manchester City vedremo poi quanti minuti saranno stati assegnati Allora Ancora Il pallone Ancora Il pallone per Mertens All'indietro per Onas Maggio Rogue Hamsik Per Cali di Cunibali Mertens Intercetta il pallone De Bruyne Lo passa All'entrato Davide Silva Che lo passa All'omonimo di cognome All'omonimo di cognome Bernardo Ancora Il pallone per Sterling Guast Stonza Il tiro Non ci arriva Nessuno Perché il pallone è sul fondo Di un nulla Di un nulla Il City ancora continua a macinare Nel City Nei minuti di recupero Siamo entrati In minuti di recupero Anche Tra la Sivira Il primo minuto di recupero Mi comunicano Tottenham Treneram Di duro Mi hanno comunicato Dalla Dalla regia Quindi C'è stato Mi dicono quattro Mi hanno comunicato Che siamo entrati In l'ultimo Minuto di recupero Da Liverpool E Maribor Sono Allora Sono quattro minuti di recupero Tra Napoli E Manchester City Ancora molto Da Da giocare Il Napoli Amsic In Signia Va a linea Roperog Usai Tra Napoli E Manchester City Mi comunico Andare Le squadre Sono Veramente Tutto Lo stadio Ha incitato Tante Napoli Ma non c'è riuscito Intanto mi Amiamo Porto 3 L'Ipsia 1 Se comunico Dalla regia Mi comunico Un po' L'eserazione Di gol Di gol ancora Quindi Ancora il Tiro Del match Ormai 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 è quasi finito La match Quasi finita anche tra Cech Tardonesk E Feyenoord Finita 3-1 Per Ha vinto 2-1 Solo Segnato Al vintuesimo Lorenzo Zia Primo tempo Al 34 Primo tempo Ananas Nosca Di Miotamendi Per il pareggio Poi Per il 2-1 Del Manchester City Poi il pareggio Del Napoli Con il calcio Di rigore Trasformato Da Giorginio Poi Aguero Al 62 Per il 3-2 Poi Al 92 Ha segnato Sterling Per il 4-2 Questa era una partita Difficile Lo sapevamo Tutti quanti Lo sapevamo Tutti quanti Che era una partita Difficile Il Napoli Poteva fare Il suo Però Devo dire in verità Che non l'ha fatto Per i due gol Ma non l'ha fatto Per l'altro Partito Perché nel secondo tempo Si è lasciata Andare il Napoli E quindi Se si lascia Andare il Napoli Vuol dire che C'è qualcosa Che non va In Champions Intanto è il rischio La qualificazione Del Napoli Che deve per forza Battere Shakhtar Donetsk E Feyenoord Per andare Almeno Ai Almeno In offenza In Europa League La classifica Poi Ve la Aggiorneremo Tramite i social Noi abbiamo Quindi Questo è stato Quello che è successo Un po' tra Napoli Manchester City Dobbiamo salutarci Vi ringraziamo Qui Tutti quanti Quelli che sono stati All'ascolto Della radio Conale di Napoli Manchester City Ci scusiamo per i problemi Abbiamo avuto Di connessione Ogni tanto si Ragionnava la diretta Ma Non dipende da me Dipende da Di questa La nostra connessione Dall'ascolto Stadio San Paolo È tutto Il Napoli Perde Per 4 A2 Contro il Manchester City Che va a vincere Anche La gara Di ritorno L'unica italiana Che è andata Molto meglio È stato Alla Roma Sul Chelsea Per 3 Per 3 A0 Mentre quella La migliore Che è andata In Ghiato League Che sarebbe La La Champions League Dei giovanissimi Andata meglio L'Inter Per L'Inter Che ha vinto 4-1 È la Ghiato League La Giovanissimi Quindi non parliamo L'Inter Che non c'è Nella Champions League Normale Grazie a tutti Una buona sera Da tutti E spero che vi siate Divertiti Con noi Qui all'ascolto Purtroppo Il Napoli ha perso E Questi sono I casi Della vita Ma Dobbiamo farci L'abitudine Per Perché Nuttro squadre così Devono giocare meglio Devono giocare Meglio 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 Un saluto a tutti Al stadio San Paolo Napoli Manchester City Batte Napoli 4-2 Ciao Sono Nicola Galloro E Anch'io ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Sono Davide Terraneo E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Sono Francesco Acchiardi Anch'io Ascolto Tutti i giorni Radio Inizia Il campionato Ciao Ciao a tutti Sono Antone Fioretto E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao 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 Agosto Santini E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Ciao Sono Andrè Corallo E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao a tutti Sono Giulio Incagli E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Sono Giovanni Remigare E anch'io Ascolto Radio Inizia Il campionato Ciao Ciao